20 edizioni della giostra, tante ne dovrà saltare in seguito alla squalifica un figurante di Porta Crucifera in seguito agli scontri in piazza durante l'edizione del settembre scorso della giostra del Saracino. Una pena decisa dalla magistratura per il maestro d'arme che dovrebbe avere un ruolo di pacere in caso di scontri e invece si è reso protagonista della baruffa. La decisione è stata presa dopo le immagini che lo vedono brandire lo scettro di maestro d'arme contro alcuni figuranti bianco-verdi. Per Porta Crucifera, oltre a maestro d'arme, ci sono le squalifiche per altri figuranti per quattro giostre, uno per due edizioni e altri due con una edizione a testa. Nel complesso sono 41 le edizioni della giostra che i 12 figuranti dovranno saltare in seguito alle sanzioni della magistratura notificate ieri ai due quartieri interessati. Per Porta Sant'Andrea sono stati identificati a vario titolo il maestro d'arme che dovrà stare fermo per due giostre e altri figuranti sanzionati con cinque edizioni, due e ancora tre figuranti che hanno ciascuno un'edizione disqualifica. I due capitani dei quartieri hanno invece ricevuto solo un richiamo. Ognuno di loro ha tempo dieci giorni per fare ricorso al Gran Giurì, organo che poi a sua volta avrà lo stesso intervallo di tempo per pronunciarsi sulle sanzioni. Grazie. Grazie.